L'essere severo, se applicato in una maniera giusta, può portare a delle cose interessanti. Io sono pugliese, sono della provincia di Taranto di Martina Franca e vedere effettivamente Taranto da questo punto di vista mi ha fatto molto effetto perché è vero che il mondo cane ovviamente estremizza una questione che però è una questione molto molto reale e che ci tocca da vicino. Quindi dal punto di vista di voi, dei protagonisti più giovani, poi torno da te Ale come è stato vivere questo film? Cioè l'impatto emotivo del fatto che potrebbe quasi succedere forse non proprio a questi livelli ma chissà, come è stato viverlo da questo punto di vista? È stato come se veramente ci fossimo ritrovati in un futuro che è vero non ce lo nascondiamo potrebbe accadere da un momento all'altro è stato forte diciamo perché comunque non immaginavo tutto quello anche se poi vedendolo potrebbe accadere ed è così è vero ormai no mi lieva tutte le parole la cosa che lui è diventato il confermatore mi piace tantissimo mi piace tantissimo è un po' come nel film alla fine che un po' uno fa le veci dell'altro vi completate le frasi a vicenda poi c'è però un momento di stacco nei vostri personaggi un po' una crescita quindi quanto avete legato voi due sul set e come siete cambiati insieme ai vostri personaggi è un po' difficile senza fare spoiler però c'è un momento molto intenso nel film in verità noi siamo amici anche nella vita reale da prima che cominciassimo a stare sul set e quindi è stato molto più semplice girare però ovviamente girando vivendo questo mese e mezzo 24 ore su 24 insieme si è alimentata ancora di più l'amicizia e quindi è stato molto più semplice trasmettere anche agli spettatori questa amicizia sì mi era stato molto semplice tanto ormai è ben cambiato dai dimmi una cosa la transizione del tuo personaggio dov'è che avviene secondo te? quando è che c'è il cambiamento? quando è che cambia secondo te il tuo personaggio? perché tu sei quello che farebbe di tutto effettivamente per il tuo amico poi però c'è verso la fine quando ognuno prende la sua strada senza fare spoiler basta no io vado a finire sono ermetica Alessandro il tuo è un personaggio molto particolare perché noi ti conosciamo tu sei il capo un po' di queste baby gang sei pure la persona più grande, più matura e hai questo fare molto affettuoso è come se fossero tuoi figli, i tuoi fratelli poi però c'è un risvolto della metà della medaglia che un po' ti porta anche alle origini di quelli che sono i tuoi personaggi più più spigolosi poi a cui siamo abituati coincidere questi due mondi da nonno papà a spietato killer ma guarda ho sempre avuto un una grandissima opinione delle persone molto severe nella mia vita cioè molte persone che ho conosciuto che ho incontrato nella mia adolescenza nella mia infanzia erano molto severe non i miei genitori per esempio che sono delle persone non particolarmente severe ma perché io ero un bambino bravissimo quindi non c'era bisogno dopo però invece questo essere severo cioè l'essere severo se applicato in una maniera giusta può portare delle cose interessanti testa calda ha superato il limite non ha capito qual era dove era l'asticella esattamente quindi che cosa fa? in realtà io l'ho sempre pensato come un carattere innamorato di questi bambini ma davvero innamorato però è uno che poi a un certo punto perde assolutamente non ha gli strumenti per maneggiare i suoi momenti di rabbia di nervosismo soprattutto quando nella sua testa vanno ad intaccare il suo progetto della nuova generazione cioè se tu non sei degno di far parte di quello che io voglio costruire posso fare a meno di te e allora si passa da fare a gavettoni e abbracciare e tenere i bambini in braccio a prendere con una pinza un ragazzino e sollevarlo per aria perché ha rubato due spicci dalla cassa comune e nella testa cioè nella mente di testa calda ho sempre pensato come hai bisogno di essere educato che è la supponenza di uno che crede di avere la verità in mano invece non ha capito assolutamente niente di quello che bisognerebbe fare però essendo l'unico leader addentro e non avendo nessuno con cui confrontarsi al suo livello se non tira dritto che ha un braccio destro ma che non è assolutamente in grado di contrastarlo da un punto di vista di dialettica e di sapere si autoproclama quello intelligente quello che sa la verità e quindi quello che lui sa e quello che devono sapere anche gli altri perché è l'unica cosa giusta da fare che è un problema enorme anche di questo paese in questo momento storico no per dire Albolissimo secondo voi Mondo Cane è un film che può ispirare soprattutto le nuove generazioni a essere un pochino più rispettuose visto che la nostra generazione precedente l'acciaglieria ha un collegamento molto importante con Taranto non hanno fatto? Sicuramente guardando questo film un po' di domande se le faranno un po' di riflessioni anche quindi spero di sì va bene va bene grazie grazie a me grazie a me grazie a me